Possiamo dire un vero e proprio caos al momento in Regione Abruzzo. I tre consiglieri della Lega, Angelo Sante, Marco Vecchio e soprattutto il Terramano Ottone di Gioventorio escono dal gruppo leghista. Sì, diciamo che non c'è nessun caos, perché come abbiamo ribadito in conferenza stampa, siamo tre consiglieri che all'indomani, racconto un pochettino tutto l'escursus, all'indomani delle amministrative che ci sono state qualche settimana fa, abbiamo chiesto con una lettera a cinque consiglieri regionali una comunicazione al nostro segretario federale, Matteo Salvini, cosa che in 15 giorni purtroppo non abbiamo avuto né dal coordinatore federale né da quello regionale nessuna notizia, nessun incontro e quindi non c'è stata nessuna attività di colloquio all'interno del nostro gruppo regionale di partito della Lega. E quindi con tanto dispiacere, perché purtroppo, come abbiamo ribadito in conferenza stampa, i tre consiglieri regionali, Marco Vecchio, Di Gian Vittorio e Angelo Sante, cosa che non riuscivamo ad avere come lavori nei gruppi consigliari, idee proposte venivano lasciate nel cassetto e non si riusciva ad avere una collaborazione con il gruppo, cosa che oggi con l'uscita e con l'appoggio al gruppo misto, in appoggio all'amministrazione regionale, il governo regionale, il governatore Marsiglio, avremo le nostre idee, le nostre proposte, avranno un proprio, un peso specifico. Consigliere Gimitorio, lei ha parlato durante la conferenza stampa di mancato dialogo, soprattutto col coordinatore regionale d'Eramo. Eh sì, non c'è stato mai dialogo, l'abbiamo ribadito più volte prima, non solo io, ma tutti i consiglieri regionali, non c'è squadra, tante volte si approvavano delle cose in commissione che poi non venivano portate in consiglio, cosa che non può accadere in un governo regionale, quindi come ribadivo prima, le nostre idee, le nostre proposte che andranno approvate in commissione saranno e avranno un nostro peso specifico. A livello provinciale cosa succederà ora, soprattutto con il gruppo leghista? Ma guardi, non c'è nessun tipo di, noi abbiamo nessun tipo di problema per quanto riguarda la collaborazione, ma il nostro peso specifico viene proprio dal basso, dal territorio. I tanti amministratori amici non aspettavano altro che, diciamo, formare questo nuovo gruppo e avere il nostro peso e collaborazione per il territorio che aspetta da tantissimo tempo delle risposte.